azione ci troviamo qui alla collettiva di pittura organizzata dal professor Giorgio Del Bono dove anche io espongo i miei quadri qua dietro di me potete ammirare il quadro del ponte del mare e il quadro del ponte del cielo la tecnica usata è quella a basso rilievo il ponte è stato creato sul tavolo di legno con materiale di polvere di marmo e cemento e colla poi colori acrilici e colori in argento questi quadri sono stati realizzati su commissione fatta precedentemente poi nella mostra da notare premiato e questo è il ponte del cielo è un ponte simbolico è un progetto che fu fatto nel passato da Luciano e da Alfonso la tecnica è la stessa del ponte del mare e la pittura anche quindi acrilici e argento poi ci sono altri quadri adesso andiamo a vedere no non va bene ma tu mentre lui è sui tuoi quadri gli altri non c'è il genere solo questa grazie a tutti grazie a tutti